Arriva un'altra sconfitta per le ragazze a Maranto dopo un'ottima partita giocata con grinta e determinazione contro la prima della classe. La Ternana passa solo nei minuti di recupero finali. Nei 90 minuti la Rezzo si è dimostrata squadra tosta e organizzata in difesa, sfiorando nel secondo tempo con Ploner il gol del vantaggio. Poi nel recupero la Ternana ha trovato il gol con Pirone, un gol pesantissimo che consente al Rosso Verdi di mantenere la testa della classifica assieme alla Lazio. Arrabbia no, mai, mai con questo gruppo di ragazze, mai, come puoi, come puoi arrabbiarsi. Hanno dato tutto, abbiamo già parlato, hanno dato tutto, ci hanno fatto orgogliosi oggi con tutto l'efforto, hanno dato veramente tutto e quello ci fa molto piacere. Era il nostro game plan di limitarli, soprattutto anche il primo tempo, di limitarli a solo un'opzione, quindi questa palla lunga che vogliono trovare. Perché parliamo anche di una squadra che in quattro partiti ha fatto 18 reti in questa profondità. Penso che le ragazze hanno fatto un grandissimo prestazione in questo che abbiamo preparato. Ora, sì, di prendere un gol al 94esimo, hai ragione, è un po' difficile di accettare, però no. No, noi ora vediamo solo avanti alla partita contro San Marino. Penso che oggi abbiamo dimostrato che siamo una squadra che può stare in questo campionato e che può fare grandi cose, perché abbiamo tenuto testa comunque una squadra che non ha perso punti. e dispiace per gli ultimi minuti perché abbiamo fatto una partita di grande livello per tutto il resto del tempo. Secondo me purtroppo ci manca anche un pizzico di fortuna che ci permette di arrivare in porta e concludere e magari anche di evitare di prendere gol l'ultimo minuto.